E salve a tutti amici Cooper di Cooper Cooperiani insomma salve E niente benvenuti in questo nuovo video dove vi volevo dire semplicemente grazie Grazie perché oggi che è il primo maggio Sì il primo maggio è quando? Oggi è il primo agosto E sono tre mesi che ho aperto il canale Però voi lo vedrete giovedì 3 questo video E niente sì sono tre mesi in questi tre mesi siamo arrivati a 80 iscritti Cosa che sinceramente non mi sarei mai aspettato Cioè di far partire un canale da zero completamente da zero E avere già questi risultati perché comunque Ho 80 iscritti ma i video vanno dalle 100 visualizzazioni Insomma tutti quasi A parte quello di Deep Rock che ne ha 93 Quello di PlayerUnknown e quello di Dead Matter Però tutti gli altri comunque sono più di 100 E la cosa che mi chiedo è come è possibile che un canale di 80 iscritti Faccia già tutte queste visualizzazioni Perché comunque rispetto agli iscritti 100 visualizzazioni sono tante Tipo magari ci sono quei canali con anche magari 500, 1000 iscritti Magari su 1000 iscritti fanno 100 visualizzazioni a video Io su 80 iscritti ne faccio più di 100 E sono molto contento Non ho da lamentarmi di nulla Ci sono quelle persone che magari mettono dislike Però il dislike spero sia perché non ci sia piaciuto il video O per altre cose Però in diversi video comunque c'è un dislike Ma questo sinceramente non è che interessi tanto Basta che non arrivino gli insulti e poi i dislike vanno bene E niente Cioè questo video l'ho fatto Soprattutto per ringraziarvi Ma anche per dirvi che da domani venerdì Per voi venerdì cioè Dal 4 agosto io parto Me ne vado in montagna per una settimana E non so Non so se usciranno i due video O la settimana dal 7 al 12 Non so se usciranno i video in quest'arco E potrebbero Non lo so Dipende se ho voglia di mettermi a registrare dei video Perché ora ultimamente sto avendo dei problemi Che io monto con Camtasia Perché è l'unico che ho E non ne metto altri Tanto tra un po' mi arriva Windows 10 Perché sì ho il 7 Per Windows 10 devo reinstallare tutto da capo Quindi eh E Non capisco perché Quando vado a cosare A metterlo su Camtasia L'audio si sente tutto molto robotico Mentre riascolto l'audio normale E non è così Quindi non saprei che altro dirvi Io Ogni giorno anche prima Stamattina ho controllato Eravamo a 78 Oggi pomeriggio entro Eravamo a 79 E ora entro e siamo a 80 Comunque Qualche diversi iscritti al giorno Si fanno Vi ringrazio veramente tutti Tutti quelli che si iscrivono Quelli che non si sono iscritti E se magari non l'hai fatto Lo potresti fare E beh Sono contento che comunque Escape è proprio Sono i video più guardati Del mio canale E' proprio quello che Che volevo Perché alla fine Escape Cioè questo canale è nato Con Escape from Tarkov Però ricordatevi Che Ehm Entro il 30 settembre Dovrebbe uscire anche Survive the Night Perché ormai è Summer 2017 E gli sviluppatori Gli ho detto Oh se qui non esce Se qui esce Prima del 30 settembre Io regalo una copia Del gioco a caso Quindi Eee Nulla Quindi se siete arrivati Fino a qua Magari me lo fate sapere Potrei lasciare tipo Oh se arrivate alla fine Ci sarà una sorpresa Ma Non lo dico Perché voglio vedere Cioè non lo scrivo Più che altro Perché voglio vedere Quante persone Veramente arrivano Fino a quanto Nemmeno forse Cioè poco più di 4 minuti No di 5 minuti Di video forse Boh E quindi niente Io vorrei portare Altri giochi Tra cui Voglio portare Seven Days Survival Che è molto bello Come gioco Ho giocato Già Abbastanza E mi ha preso Tantissimo È bello Forse potrebbe essere Uno dei video Della prossima settimana Quindi vedremo La prossima O ce ne sarà uno Ce ne saranno due Non lo so O non ce ne saranno Non lo so Quindi Nulla Io vi ringrazio Ancora tantissimo Perché Comunque C'è magari In tre mesi Se ne fa Molti di più Di iscritti Però Io alla fine Cioè comunque Sono più che contento Non ho da lamentarmi Di nulla Quindi io vi saluto Spero che Chi non si sia iscritto Si iscriva Perché ci saranno Ancora tanti video Credo Fino a che non muoio È nulla Io Vi ringrazio ancora E ci vediamo Nel prossimo video Se ci sarà un prossimo video E quindi nulla E ci si vede Alla prossima Ciao